ok allora è necessario che stiamo in un posto tranquillo riposati rilassati senza fonti di suono esterne se possibile magari anche spegniamo la luce così possiamo entrare sempre di più dentro noi stessi tra poco la spegnerò anche io la luce e se per caso non si dovesse sentire l'audio bene magari possiamo utilizzare anche degli auricolari così sono arriva meglio a destinazione ok e vi auguro un buon viaggio possiamo stare sdraiati oppure anche seduti l'importante è che troviamo una comoda posizione troviamo una comoda posizione e con qualche bel respiro profondo iniziamo a rilassare tutto il nostro corpo e per qualche momento portiamo la nostra attenzione nel centro del nostro cuore dentro questo spazio si trova la nostra vera essenza ciò che realmente siamo dove dimora la nostra anima e interiormente ci diciamo grazie onoro la vita che scorre in questo corpo e questa frase la respiriamo in ogni nostra cellula lasciamo che agisca in profondità dentro di noi portiamo la nostra attenzione ai piedi inspiriamo e all'esalare li rilassiamo sempre con il nostro respiro rilassiamo le gambe rilassiamo l'addome rilassiamo l'addome rilassiamo il torace rilassiamo la colonna vertebrale dal basso verso l'alto sempre con il nostro respiro sempre con il nostro respiro rilassiamo le mani le braccia le braccia le spalle e il collo rilassiamo l'addome rilassiamo il volto e siamo sempre più rilassati. Rilassiamo il cuoio capelluto e siamo ancora più rilassati, siamo un tutt'uno con il suono, un tutt'uno con noi stessi, con la nostra essenza e ci abbandoniamo sempre di più, sempre di più in profondità. Rilassati 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.